ciao a tutti ragazzi e buona pasquetta e ben tornati in questo nuovissimo video perché oggi faremo un'altra challenge come piace a noi cosa compro con un euro al sole 365 iniziamo ad andare un euro non posso comprare l'uovo dei miei contrattini 10 euro no troppo 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 questo che è sempre l'uovo di lion ma io non ce la faccio a comprare meglio che me ne vado da qua troppa roba troppi troppi prezzi alti con la canna di cavallo questo posto ma guarda domanda signor lo spritz lo spritz quanto costa quanto costa lo spritz adesso sì che sembra uno con i soldi però sono un povero di merda sono andato nelle patto giusto delle merendine ovviamente non queste e pippo andiamocene da questa parte che non è il lato nostro euro e 98 euro e 98 euro e 58 nutella nutella in oaio nutella in reggio emilia e nutella seconda nutella in oaio crema spalmabile bigusto ah questa è sempre la nutella in oaio però sia bianca che nera wow ho trovato la marmellata di fragole però ovviamente io voglio un altro tipo di fragole penso che tutti quanti avete capito di che tipo sto parlando il pesto no eh no no posa posa non è per me gli infradito del napoli che bellezza sono pure la versione femminile 88 centesimi no ma che cazzo me ne faccio delle live se con un euro ma se con un euro prendessi qui questo coso che serve per pulire i pavimenti e soprattutto per renderli i pavimenti di scerec un euro cos'è è meglio che cazzo me ne faccio il sto coso per favore posa sta merda ho trovato quello che fa al caso mio tutte caramelle 88 centesimi 90 centesimi 90 centesimi ancora un euro a rosa un euro un euro e diego affa da franculo neanche ho trovato le caramelle perfette allora queste 88 centesimi beh direi che abbiamo avuto quello che volevamo caramelle 88 centesimi mamma mia avrò pure il resto ragazzi ovviamente specifichiamo che il carrello tre secondi dopo l'ho posato perché non c'ho un euro cioè c'è l'ho ma uno solo bene ragazzuoli 88 centesimi caramelle eppure resto per questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo alla prossima ciao a you